Il seguimento avviato, diversi 10.44 presso l'Interstate 4, richiedo a supporto alle unità in zona. Unità presso Interstate 4, assistete agente all'inseguimento di vari versati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.